Come tutti giovedì mattina il nostro primo ospite è il giornalista di Vita Trentina. Questa mattina c'è con me Augusto Goio. Buongiorno Augusto. Buongiorno e buongiorno ai telespettatori. Come sempre sapete il giovedì noi vi forniamo anche nella rassegna stampa in anteprima proprio la prima pagina del settimanale di Ocesano e cogliamo quindi poi l'occasione per commentarlo proprio con i nostri ospiti. Ecco Augusto, innanzitutto l'apertura è dedicata questa mattina di Vita Trentina proprio alle televisioni locali. Si parla di tv locali e della rivoluzione in particolare che sarà introdotta dal 5G. All'interno c'è anche proprio un'intervista al nostro editore Graziano Angeli. Sì, giochiamo in casa in questo senso. È una inchiesta che abbiamo voluto fare un approfondimento proprio riguardo a questa nuova tecnologia che preoccupa non poco le tv locali che sono una voce importante del territorio, una voce che deve essere assolutamente mantenuta. Cosa comporterà questo avvento, questa nuova rivoluzione digitale? Dopo il passaggio dall'analogico al digitale diciamo prima generazione ora con l'avvento di questa nuova tecnologia le emittenti locali dovranno lasciare libere le frequenze a 700 MHz e affittare dei canali oppure comprare questi nuovi spazi. Si tratta di un passaggio che appunto richiederà intelligenza, strategia e che anche richiederà investimenti pesanti. Non a caso sono i due più grossi player del settore televisivo Mediaset e la Rai e Mamma Rai che probabilmente si spartiranno queste frequenze nuove messe a disposizione dal 5G, da questa nuova tecnologia. C'è chi come l'editore Angeli appunto che è di questa emittente appunto si mostra tutto sommato più ottimista, vede il bicchiere mezzo pieno chi come De Marchi di RTTR, l'editore De Marchi si mostra più preoccupato e poi c'è il mondo delle tv non commerciali rappresentato in questo caso dalla voce del consorzio Corallo che coneranti rappresenta l'emittente di ispirazione cattolica o comunque religiosa che mostra invece più preoccupazione per questo passaggio che andrà affrontato entro il 2022 e comporterà dei cambiamenti anche per i telespettatori. In questo caso suggeriamo subito, approfittiamo di questo spazio per dare un piccolo suggerimento che i telespettatori troveranno anche nelle pagine Vita Trentina una verifica del proprio televisore per vedere se è pronta questa nuova tecnologia basta andare alla pagina 200, al canale 200 scusate e verificare se si vede l'immagine con il nome di questa nuova tecnologia che si chiama DVB-T2. Poi in prima pagina, poi chiaramente anche all'interno, parlate della missione la missione avete titolato che riparte da San Zeno, perché? Sì, a San Zeno ci sarà domenica 25 un importante appuntamento anche con il Vescovo Laura Otisi ma domenica 18 è invece la giornata missionaria e quindi ottobre è il mese della missione e ospitiamo un intervento di Don Cristiano Bettega che spiega perché la Chiesa è tutta missionaria e perché questo invito ad uscire, una Chiesa in uscita come dice Papa Francesco, una sottolineatura importante e si parte da San Zeno che sappiamo è il luogo del martirio di Alessandro Sisinio e quindi appunto un luogo molto caro alla fede e alla devozione dei Trentini. L'editoriale del direttore Diego Andreatta questa mattina, l'abbiamo già proprio intravisto poc'anzi si intitola La pastorale a tu per tu che cosa spiega appunto Andreatta nell'editoriale? Anche la pastorale deve fare i conti con questa emergenza sanitaria a quale siamo immersi ormai dal mese di marzo di quest'anno e anche un, lasciatemi esprimere un ricordo anche ai tre morti di ieri è una curva quella dei contagi che ha ripreso a salire anche probabilmente per il maggior numero di tamponi che vengono effettuati ma purtroppo si torna a registrare un bollettino di vittime dovute alla pandemia Covid-19 in questo caso anche la pastorale è costretta a fare i conti con questa realtà con le misure necessarie per evitare l'espandere su ulteriore del contagio e il nostro direttore Diego Andreatta in questo suo intervento sottolinea come anche la Chiesa di Trento si sia preparata per tempo ci sarà proprio domenico un importante appuntamento dei giovani che non si svolgerà in presenza ma in maniera del tutto inedita prima attraverso i canali radio e poi attraverso il collegamento digitale attraverso le piattaforme che permetteranno a un migliaio di giovani di tutta la diocesi di dialogare tra di loro vedremo come andrà questo esperimento di pastorale e digitale Siete tornati, bisogna dire voi lo fate spesso in carcere per parlare di carcere e Covid e in particolare poi fate anche riferimento proprio alla relazione della garante dei detenuti che mi pare è stata presentata proprio nei giorni scorsi Sì, devo dire un applauso anche alla stampa trentina agli emittenti, al mondo dell'informazione trentino che anche in questo caso si è rivelato molto attento a questa realtà del carcere di Spini una realtà dove esistono numerose criticità numerosi problemi un disagio che non è solo della persona detenuta ma anche di chi lavora dentro il carcere questo dobbiamo ricordarlo sempre penso alla polizia penitenziaria agli operatori dell'area educativa e all'area sanitaria e noi siamo partiti dallo spunto offerto dalle molte riflessioni interessanti della garante dei detenuti, la professoressa Antonia Menghini per approfondire in particolare una storia del tempo del Covid un fatto accaduto ad aprile di cui non si era avuta notizia e che ha visto alcune realtà già impegnate nel sociale a Trento che si sono impegnate per in qualche modo venire incontro a esigenze in particolare ai quattro detenuti la cui presenza all'interno della struttura carceraria avrebbe comportato un grosso rischio per la loro vita delle persone già ammalate e che appunto grazie a una rete concreta, affattiva che è stata messa in campo hanno potuto uscire in un appartamento messi agli arresti domiciliari e è una storia che ci piace proporre ai lettori perché al di là dei tanti premi del carcere dimostra che c'è un tessuto solidale solido che sa rispondere anche a un'emergenza come quella che ci ha travolto a partire da marzo Io adesso Obusto ti inviterei a riflettere su una questione molto delicata che è una questione ovviamente non solo nazionale ma internazionale per quello che riguarda chiaramente la Chiesa nell'Angelus l'altro giorno il Papa è tornato ad occuparsi della cosiddetta questione femminile nella Chiesa Sì, Papa Francesco l'ha fatto con una sottolineatura importante quella che nessuno di noi è battezzato prete o sacerdote o religioso ma ha sottolineato appunto l'importanza del ruolo dei laici e delle laiche e l'altra sottolineatura che credo vada evidenziata di Papa Francesco è il fatto che non si tratta di dare ruoli o funzioni alle donne nella Chiesa non è tanto questo il problema quindi superando anche forse il discorso donne sacerdote o meno che diventa secondario ma più che altro si tratta di e questo mi pare molto interessante nel discorso di Papa Francesco si tratta di in qualche modo fare sì che la Chiesa tutta veda con occhi di donna e su queste parole di Papa Francesco abbiamo chiesto un commento ad Anna Rigoni che è la Presidente dell'Azione Cattolica di Trento questo fine settimana ritorna a Trento la mostra dell'agricoltura che lo sappiamo solitamente si svolge nel mese di marzo che poi è stata rinviata a causa Covid ne parleremo abbondantemente dopo con la nostra ospita Elda Veronesca è la direttrice della PT di Trento Monte Bondone e Valle dei Laghi ma c'è appunto una ricorrenza particolare anche su Vita Trentina che riguarda proprio la vostra pagina dedicata insomma all'agricoltura sì è un compleanno in qualche modo un anniversario meglio il traguardo delle 2000 pagine raggiunte a partire dal 1980 quando apparve per la prima volta sulle colonne di Vita Trentina allora il direttore era Don Vittorio Cristelli e nacque la pagina dell'agricoltura per tutti una testatina come si dice in gergo giornalistico con questa denominazione per tutti che voleva sottolineare proprio l'intenzione di fare un'informazione sul mondo agricolo rivolta non tanto e non solo agli esperti che avevano già anche allora i loro canali di informazione ma proprio a tutti i lettori del nostro settimanale è un traguardo crediamo unico nel panorama dell'editoria probabilmente non solo locale perché dal 1980 Sergio Ferrari e Giuseppe Michelon che sono stati uno professore prima di andare in pensione prima del pensionamento all'istituto Graio San Michele e l'altro Giuseppe Michelon allievo quindi anche questo aspetto curioso insomma di un professor non allievo che poi si sono ritrovati per 40 anni e ogni giovedì ancora si ritrovano la mattina per decidere gli argomenti da mettere poi in pagina li abbiamo voluti festeggiare in maniera sobra all'interno della redazione naturalmente nel rispetto della normativa anticontagio e ci piace così proporre ai lettori anche questo traguardo che è decisamente particolare io penso Augusto che valga la pena anche ricordare dell'attività del vostro sito online del sito di Vita Trentina dove appunto magari proponete ogni tanto mi pare anche delle interviste delle cose audio, video ecco sì è un sito che è stato rinnovato da poco che si differenzia nei contenuti in maniera piuttosto netta dal settimanale i linguaggi sono naturalmente diversi e in qualche modo appunto vengono proposti anche dei contenuti multimediali naturalmente non si tratta di fare concorrenza ai mettenti come la vostra ma è un linguaggio che sicuramente bisogna sperimentare quindi l'informazione va fatta tutto tondo ormai io ringrazio molto Augusto Goio che è giornalista di Vita Trentina non so se Augusto in chiusura volevi aggiungere qualcosa ma rimandare come di consueto poi agli approfondimenti le cose di cui abbiamo parlato in questi minuti sicuramente possono poi essere diciamo il vantaggio della carta stampata è quello poi di poter tornare ad approfondire come si vuole gli argomenti con il tempo che si ritiene di voler dedicare quindi rimando sicuramente alle pagine del nostro settimanale e quindi rimando sicuramente alle pagine del nostro settimanale grazie